Ciao ragazzi, sono Marta, la referente dell'Associazione Uniamo. Il 22 novembre abbiamo organizzato un evento dove alcuni rappresentanti presenteranno i programmi elettorali in aula 11 al Dipartimento di Giurisprudenza, ore 16.30. Ora conosciamo alcuni candidati. Come ti chiami? Alessandro Ferretti Edoardo Gentili Francesco Speziale Francesco Micillo Di che associazione fate parte? Azione Universitaria Idee in Movimento Student Office Sinistra Universitaria Udu Datemi motivo per venire a questo incontro il 22 novembre. Secondo me bisogna venire il 22 per scegliere con consapevolezza. Perché si parla tanto di indifferenza, di basse affluenza, allora è importante conoscere più in profondo e conoscere non soltanto le idee come si può fare benissimo anche a banchetto ma conoscere anche secondo me le persone per capire poi in realtà chi ci rappresenterà nel Dipartimento e negli altri organi. Secondo me il 22 dovete venire perché essere buoni studenti significa essere studenti attivi, valutare tutte le opzioni che avete quando andrete a votare per votare in modo consapevole e non per sentito dire. Ritengo sia importante esserci il 22 perché è importante il confronto tra le varie associazioni e il confronto tra i programmi delle varie associazioni per dare un contenuto solido al voto che si esprimerà il 29 e il 30. Quindi come associazione in più posso aggiungere siamo molto contenti di questa iniziativa proprio perché ci dà la possibilità di poter presentare il nostro programma al meglio, non solo al banchetto ma proprio davanti a un po' di persone e soprattutto perché ci permette di confrontarlo con le altre associazioni. Grazie e vi aspettiamo il 22.